Col presidente Mario Ceri, tanto era Mario perché una partita male che potesse andare poteva essere un 2-2 invece errori individuali hanno regalato non solo il 2-2 poi il 3-2 di fronte a una squadra comunque è la migliore vista a Grosseto Sicuramente loro sono un'ottima squadra, questo non ci piove, noi però oggi purtroppo si è fatto due errori molto gravi questo se te le fai con una squadra che è forte le paghi, ci puoi da dire, ragazzi gli va detto poco perché insomma alla fine non so parli di salvarsi siamo la 21esima di campionato, siamo secondi, c'è il rammario perché questa partita si poteva portare in fondo se riuscivamo a stare forse un attimino più tranquilli, non lo so, purtroppo quando c'è questi errori, insomma Gorelli si conosce tutti purtroppo oggi ha fatto un errore, prima l'ha fatto Milani e poi Gorelli nella stessa azione e quindi lì, poi anche il terzo gol, l'ennesima pallana attiva e questo è una cosa che ci si porta dietro da tanto tempo c'è poco da fare, peccato perché perlomeno un punto era forse anche più giusto, vabbè È possibile Mario, dicevamo noi in diretta radio, che il gol del pari per come è avvenuto, che lo 2-2 intendo abbia tolto un po' di certezza la squadra che fino a quel momento stava giocando piuttosto bene, ne è venuto un po' usando i termini del tennis il braccino corto Ma sai, ripeto, noi siamo una squadra giovane, quindi ci può stare anche questo, un gol preso in quel modo ti taglia un po' le gambe però insomma, ecco, va bene, è andata così, da domenica penseremo a lavorare, ripensare a vincere domenica l'obiettivo è stato raggiunto, quello che viene bene, l'ho sempre detto, per cui chiaramente ci sono squadre più attrezzate di noi questo si sapeva anche dall'inizio, quindi noi si sta facendo un bel campionato, io sono contento lo stesso, certo, dispiace È giusto così, abbiamo detto nessun dramma e quindi domenica prossima prenderemo quello che verrà Speriamo, grazie